Allora, noi siamo Daniele Sposito e Annabella Calabrese, l'ha detto lui, quindi c'è bisogno di capire. e del cortometraggio 20 minuti. Siamo regista, lui è regista, produttore e sceneggiatore, io produttrice, sceneggiatrice, attrice e protagonista del cortometraggio. Il cortometraggio parla del 16 ottobre 1943 e il rastrellamento degli ebrei romani a Roma, nel ghetto appunto. Ci siamo trovati molto bene qui a Spillinbergo, la prima volta per me personalmente in Friuli, quindi è stato molto bello. Ringrazio il festival per avermi dato questa possibilità di scoprire il Friuli. Soprattutto ringraziamo il festival per l'ospitalità fantastica, sono stati veramente carinissimi. Staff tutti veramente grandiosi. Spillinbergo molto bella, piccolina ma molto molto bella e tutti veramente veramente gentili e simpatici, incredibilmente. E poi si mangia benissimo, ecco.